Una proroga sui tempi per la presentazione delle osservazioni sul tracciato della Due Mari. E' questa la richiesta fatta dall'assessore Marco Sacchetti ai tecnici ANAS. Una questione che sta tenendo banco in città da alcuni giorni. Al centro la costruzione del tratto aretino e le conseguenti procedure di esproprio per la costruzione delle bretelle che da San Zeno vanno una alle Poggiole e l'altra verso la regionale 71 e per la stessa E78. I cittadini residenti in quelle zone che hanno già dato vita dai comitati nei giorni scorsi avevano incontrato l'amministrazione comunale. Ho chiesto al responsabile unico del procedimento di concedere una proroga rispetto al termine formale che mi hanno confermato essere il 3 giugno e non il 26 maggio, sottolinea l'assessore Sacchetti, in quanto molti cittadini hanno evidenziato difficoltà nel riperimento della documentazione progettuale. L'incontro è stato comunque positivo poiché sono stati chiariti alcuni aspetti del progetto e le motivazioni tecniche che hanno dato origine ad alcune soluzioni progettuali. A breve prosegue è stato fissato un ulteriore incontro tra il sindaco Alessandro Ghinelli, il commissario straordinario e vertici di Anas, in cui la sede il primo cittadino illustrerà direttamente ai responsabili di Anas le preplessità su alcuni aspetti progettuali che saranno oggetto di osservazione da parte del Comune.